Fino a giovedì avevamo preparato la nostra partita con il nostro canovaccio classico, con le nostre posizioni classiche, poi solamente ieri abbiamo saputo che Calabria e Teo non sarebbero riusciti a essere della formazione, quindi avendo così pochi terzini abbiamo pensato di utilizzare tutti i tre difensori centrali. Abbiamo fatto mezz'ora di allenamento, ma ho visto una squadra stare bene in campo, ho visto una squadra cercare di produrre gioco, di produrre movimenti senza pala che ci potessero garantire delle buone soluzioni. Abbiamo affrontato un avversario molto in condizione in questo momento, molto presente fisicamente, molto aggressivo, quindi non sempre siamo riusciti a giocare con quella polizia che forse sarebbe servita per cercare di chiudere bene prima la partita, anche se abbiamo avuto l'occasione per farlo. Sono dei leader del nostro gruppo, questo nel modo più assoluto, sia quando giocano, sia quando giocheranno o giocano un pochettino meno. Sono persone intelligenti, persone che sono da tanto tempo, conoscono le nostre situazioni, che sanno mantenere la positività nel modo giusto in tutti i momenti della nostra quotidianità. E poi sono giocatori forti, non sono solamente delle belle persone e dei giocatori carismatici dal punto di vista caratteriale, sono giocatori che ci possono ancora dare un contributo importante e oggi l'hanno dimostrato. Noi siamo un gruppo, siamo un gruppo che poi può sbagliare, anzi sbaglierà, ha sbagliato, sbaglieremo ancora, ma sicuramente non manchiamo di sostegno, non manchiamo di solidarietà con il compagno o con la persona all'interno del nostro gruppo in difficoltà in quel momento. Non lo facciamo con le parole, ma lo facciamo con gli atteggiamenti, lo facciamo con i comportamenti. Quindi tutti abbiamo voluto oggi Rafa Capitano, perché vinciamo e perdiamo tutti insieme. Lui ha dato la risposta che doveva dare, ma non c'erano dubbi il fatto di incoraggiare un ragazzo giovane che entra, perché Rafa ci è passato qualche anno fa in queste situazioni, sa com'è difficile comunque entrare e giocare a San Sigo davanti a 70.000 persone. Quindi sono contento anch'io per Bartesaghi, perché ha lavorato bene da quest'estate insieme a noi, quindi c'è stata questa possibilità, l'ha sfruttata bene, ma ce ne saranno delle altre. Siamo bene con l'inserimento, ma non può essere ancora terminato. Oggi in mezzo al campo e a fine partita Tijani, Yunus, mi hanno detto, come è dura in Italia, come è difficile comunque superare gli avversari, come sono strutturati gli avversari, come sono uffici, come sono aggressivi. E quindi queste difficoltà le impari a conoscere quando poi te le trovi territorio di fonte. Ogni partita per loro sarà una crescita, però sono giocatori forti, sono giocatori fatti, non sono solamente ragazzini giovani da fargli crescere. Quindi credo che il loro periodo di inserimento sta andando molto bene, sta andando secondo me a un'ottima velocità, ma che ancora avranno bisogno di qualche partita, di qualche difficoltà, di qualche errore per capire ancora meglio il nostro modo di stare in campo, nostro e per capire meglio le difficoltà del calcio italiano. Lo ricordiamo con grande affetto, con grande calore, perché è stato un milanista vero per passione, per generosità, per senso di appartenenza. Poi una persona sempre molto diretta, molto solare, quindi siamo molto dispiaciuti e soprattutto siamo molto vicini ai suoi cari, ai quali facciamo le nostre più sentite condoglianze. Se abbiamo perso un milanista vero vorrà dire che ne avremo uno in più che ci sosterrà per ovunque possa essere in questo momento. Sono contento di aver avuto molti minuti oggi e di aver trovato la vittoria. È un gruppo molto buono che dal primo giorno mi hanno raccolto bene, sono giocatori molto bravi e comunque sono molto... hanno i piedi a terra, quindi dal primo giorno mi hanno aiutato molto e questo aiuta nella transizione. Sono senza parole ancora adesso. Più che altro ero inaspettato perché sul 1-0 contro la Sverona, dopo essere venuti da una sconfitta nel derby che dovevano vincere per forza e niente, quindi non me l'aspettavo e appena mi ha chiamato il mister mi sono fermato un po' le gambe dall'emozione, però niente, sono entrato con determinazione e niente, adesso sono qui e ho fatto l'esaldio in Serie A. Quando mi è arrivata la chiamata per venire a fare il ritiro con la prima squadra, anche lì insieme a mio papà ci sono venuti i brividi, ovviamente non è una cosa da tutti e ovviamente quando ho avarcato il cancello di Milanello ho pensato che sono qua e ho l'occasione per farlo, quindi è l'opportunità giusta e devo andare avanti così, crescendo e adesso continuiamo così. Grazie